ciao amici un nuovo gioco per voi andiamo avanti phantom doctrine bella in italiana in italiana ok gameplay italiano bella li bravissimi ragazzi normale facile media assi avanti cia o caccia kgb kgb ccp o cia dai andiamo con la cia la questa la prossima la la facciamo come kgb nome reale marco drums games la faccia la facciamo vediamo un po' c'era un bel po' eh devo essere sincero dai così così mi piace crea volto ma scusa non ecco però dai va bene corporatura un po' più grossottella avanti capelli no ricci mi stanno veramente antipatici ci sta colore nero barbozza ci sta vestiti no 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 vediamo che tipo di vestito c'è non c'è una bella magliettina no eh dai andiamo così pantaloni ci sta scarpe così mi piace testina no dai che bella ecco occhiali no ah 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 da tamar rosso bella lì accessori il figaro la canneta no dai niente 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 no dai cicatrici mi sembra gioco nulla nulla dai andiamo 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 avvia partitozza triangolo cerchio option gli eventi in cui state potrebbero stati nascosti oh oh i documenti facciati sono stati segnalati all'allarme aia molto tempo la rosso eh questo è il gioco giulietta 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 E' un contrarianza. Entenduto? Rekolf patrol. E' tornato alla base. Abbiamo scelto informazioni da Vladivostok. È grande, Steve. Hai ancora visto? Non, dovranno? Oh, sì, ma utilizzare il network. Non vogliamo nessuno ascoltare a te. Prima i britannici, e ora i americani. Cosa c'era qualcuno che vuoi svolgere nei nostri plani? Sto svolgere, Valhalla. Fuori! Bambini! Tu nonostrapposti ha usato. Adesso Iceberg è in jeopardy. Faccio tutto questo in the open era tua idea? È vero. È stato un plan semplice che nessun uomo potrebbe essere eseguiti. E tu hai scelto. Mi fai scelto. E tu hai scelto. E tu hai scelto. allora, raggiungi l'infiltrato e attiva la parola d'ordine ruba i documenti, scappa dal lato del confine ok, questo è un PS4 ragazzi, è Berlino Est tutorial, operazione soglia 44 consigli, wow, questo è un gioco da sapere prima di farlo, non ho capito ok I hope you have a good reason for pulling me off that RAF kick Absolutely, this operation is crucial to Project Iceberg Why are you even talking to me? You're taking an awful risk Non cazzo, potrebbero aspettare defectori, ma non il tipo di hardware che stai carriendo. Allora, allora, durante la fase le guardie reggeranno solo se c'è qualcosa di sospetto, spostati la politica con l'X. Allora, quasi tutte le azioni costano punti, ok. Ok, è un gioco basato su turni, quindi quando i punti del tuo agente se ne hanno, il tuo turno finisce, ok. Il nemico cosa fa? Si sposta. Ok. Salta il resto del tumo e lascia che la guardia continui la ronda. Ah, del turno, ok. Saltiamo così lui si sposta. Così quando va fuori dal campo vigile. Quindi se io clicco fa tutto lui, eh. Allora, allarme se entro in quanto da visivo, posso concentrare. Ma non va qua. Cioè, non ci va lì. Va un po' prima, un po' dopo. Ragazzi, cosa posso fare? Quadrato, ma porca miseria, c'era scritto quadrato sul giallo che non si vedeva. Ok. Non abbiamo problemi inutili. Ok. Non ci deve essere nessuno, eh. Ma... I punti azione non li vedo da nessuna parte, comunque. Lo andiamo già per la parola. Undi il ferro. Non si può. Non ci può essere TWO. Bitupa il trupo il trupo e 1199 guglattino. Ahhhhhhhh... BOOM! Hanno un certo livello di percezione che viene usata in azioni selezionate, per esempio combattimenti. In combattimento a percezione prendete gli agenti di schivare i proiettili, riducendo il danno ricevuto. La percezione si rigenera ogni turno, può essere aumentata con le abilità. Ok. Ok. Ah, la vedetta, vedi? Usando vedetta è un altro che mi dà una mano a dirmi dove sono. Ok. Non ti preoccuparti, ci prenderò la messa. Ah, caspita. Il problema è che questo è tutto olio, dopo me lo devo arrangiare da solo la storia. C'è che tu gente porta? Ok. 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 è un po' 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 lento ma sono giochi a turni ragazzi sono. Sono giochi da pc portati su console che a me piaceva davvero un botto eh. Quindi quello questa. Arca loca! Uuuuh! Li ha sparato! Ai! Ragazzi! Ahahahahhaha! Fortissimo. Ok. Salto dalla finestra. Bravo. per un punto forza attivare l'attacco automatico ok bravo in Phantom Doctrine ci sono possibilità casuali di colpire ma gli attacchi possono offreggere varie quantità di erano che si presenta come segue danno massimo schivo si insomma fanno un po' a volte anche cidecca ok bravo bravissimo stacco la testa vai grande sta finta diventa tantissima dai che siamo siamo dati via bravi oh no mission obiettivo complete vai corvo ok quindi devo seguire sia i comandi giù che i comandi di ognuno via hai raggiunto la fine tutorial e adesso il vero problema ricordarsi i comandi sto giocando con il pad raga e non con e allora sargoda sargoda da ride non autorizzato pesce cane pakistan pakistan per controllare il loro programma nucleare entriamo nell'area di missione sotto copertura ma non saremo invisibili state lontani dai militari pakistani di alto rango non combattete se non attaccano loro per primi confermate l'esistenza del dispositivo a fissione ed evacuate prima che si accorgano di noi ok quindi è stealth quindi farò un casino un casino incredibile sei settimane prima wow pensi davvero che il problema dupe esiste? il solito adesso su queste cose ha ragione 10 dollari chi ha tosto sei un soggetto semplice un soggetto semplice base aerea di kirana hills pakistan 11 marzo 1983 ora locale mezzanotte 30 uuuuuuuu guardate qui guardate qui guardate i comandi a minimo i miei amici i miei amici i miei amici vanno sempre attraverso il travestimento allora andiamo qua ok 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 speriamo che i due cacchioni non si accorgano di noi eh oddio allora in realtà io ho rubato la roba da sotto il naso eh no allora in realtà forse dovevamo andare qui allora vediamo i nemici che cosa fanno non dirmi che esci da quella porta lì eh io allora io gli ho fregato la cosa qua e sono andato lì tranquillo allora qui c'è un qualcosa che è di lì però eh vabbè andiamo qua ok documenti riservati presi ehm ehm no qui è fine mappa raga quindi torniamo riusciamo a tornare qua no hm ecco se magari non mi metto proprio davanti alla finestra e magari questo se non ci mettiamo proprio davanti alla finestra è meglio no no non devo entrare perché tanto allora lui diceva che non ci frega niente questi stanno andando avanti e indietro nella casetta quindi non non frega nulla loro bravissimo bravo allora in teoria si potrebbero anche ammazzare però il discorso qual è c'è chi ha le armi silenziate ok come ti sorprende ti sorprende invece mas Ok, ci dobbiamo spostare un po' la volta Caspita, con la spia lì non mi piace neanche un po' Quella lì Hai all'arma Ehm Li metto in fila Speriamo che non mi vedano dalla finestra perché vedono tre cretini in fila Allora la problematica adesso sarà entrare Allora Porca Io non volevo Io non volevo Così Nel senso Eh Orca loca Qualcuno morirà Oh mio dio Eh ragazzi Attività nemica quanta ce n'è Non silenziata Ma che ne so io se silenziata o no l'arma Ok Qua è tutto A me che mi frega Ok Poi Dovrei Sparare Ok 23% Ok Spariamo No vai di qua Caspita Al tre Ok Ok come è andato Grandi ragazzi Grandi 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 Purtroppo Adesso Arriva Dobbiamo essere sinceri Orca Oh mio dio canasta No canasta è morto Questa gente Entra in condizioni critiche Stabilizzalo Portandolo fuori Dall'area di missione Eia Ok 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 Scusami, come lo trasporto? I punti sono già al massimo Uno E c'è solo uno, eh Aia Mi ha fatto male Mi ha fatto veramente male questo qua Porca Va bene Stanno arrivando altri Allora Io qua non ho capito Allora, non costa Capo singolo Nero Raccoglio un agente Ok Portiamolo fuori Si può portare fuori Va bene Prese e messo Vabbè, stai lì Ah 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 Dai Ok Ok Dieci gliel'ho fatto Però sono un po' Esposto, eh No, non ho più punti Niente Questo è Orca loca Va dove va Di fianco Orca loca Ah 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 vediamo che cosa fa vediamo se posso sparargli eh dai bravo se non posso sparargli sono fregato no da un centimetro no dai ragazzo da un centimetro allora vediamo sono proprio in mezzo non voglio dirmi che arriva un'elicottero schivato bravissimo tra l'altro c'era uno dietro tra l'altro canasta sta morendo credo ah ma c'era un altro urca ma perché questo qui è venuto fuori il mio non dovevo andare lì ah i forzi in arrivo e allora il canasta è andato sei serio sei serio dovevo sparare anche all'altro aspetta uno uno è andato cialbo è andato questo dove va viene per fortuna si è spostato un po' urca dietro la mi ha preso tutti la dietro e sono anche imboscato dietro il muretto ma uno spara anche a questo qui dove è finito è sparito bagazzo è andato su forse lo stealth ragazzi non è di certo cosa facile cosa mia soprattutto allora è oooohh abbiamo un po' di grado di grado, ma cosa succederà? oooohh non c'è nulla non c'è nulla stiamo cercando il reattore non c'è successo c'è l'interno provare provo non c'è nulla ahhhh in mezzo pam mmm allora se io mi sparo ok l'aria chiusa sarebbe uno dei nostri un po' 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 uno dei nostri è andato un po' un po' un po' un po' oooohh cacchio ahhhhhhh Allora, io vado davanti a un centimetro e se sbagli giuro che ti do quattro sberle. Io credo che l'altro è morto, sì, poi è morto, poi è morto, è morto. Ok, a opzionale, adesso ce ne dobbiamo smammellare via da qua. Oh no! Oh mio Dio! Ma lui è dentro, eh? Ah, cavolino di Bruxelles, mo' chi prende questo qua? A chi spara? Sono tutte e due sulla porta, a uno dei due... Oh, urca, che legnata, non me l'aspettavo, ai, ah, mio dio, dai, non mi fai andare di lì, cacchio. Dai, sfiorato, ma ci credi? Eh, sì, lui si muove, eh, certo che io mi sono messo lì, ma dove si è messo? Ma dove si è messo? Eh, questa putta, dall'altra parte, gli ha messo la schiena davanti. Ah, arriva anche l'altro, ragazzi, siamo messi malissimi. Oh, e punta dietro, lui non guarda che... Nooo, nooo, seri, bruttissima partita, bruttissimo inizio, è difficilissimo questo gioco. Cioè, sei a un centimetro? Nooo, dai, a un centimetro gli ha fatto un colpo da scemonito. Eh, amici miei, credo che siamo morti. Non lo so più di sì, ragazzi. E la morte della gente infiltrato della CIA, Marco Drumsgames, viene adesso. E vabbè, dai, questo era solo un inizio per farvi vedere com'è il gioco. Mi piace, però è un po' da... Phantom Doctrine. Sì, dai, bisogna farlo un po' con calma. L'ho preso un po' troppo sotto gamba. Se spari, quando la missione stealth, ho paura che si muore, si muore. Tre agenti morti e la minaccia. E la missione è completa, man, morta. Mission default. Mi raccomando di seguire il mio canale, Marco Drumsgames, channel, su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord e YouTube. Mettete un mi piace dappertutto. Venite a vedermi nelle live alle ore 21 tutti i giorni. Comunque seguite su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch e Discord, che segno sicuramente quando e cosa porto, dove e perché. Che giochi e tutto. Tanti Day One Edition, tanti tutorial, tantissimi giochi di guida e tantissimi altri giochi. Quindi, mi raccomando, venite a vedere il canale di Marco Drumsgames sia YouTube. Seguite tutti i video, guardate nella playlist, ci sono tantissimi giochi. E anche su Twitch e TikTok, mettete i video simpatici. Ciao amici, alla prossima. Al secondo episodio di Phantom Doctrine dobbiamo andare un po' più tranquilli di così. Siamo andati un po' a scialla e abbiamo preso mazzate. Nel senso che la prima missione non tutorial sono Muerto. Ciao amici.